Gentili telespettatori, buona giornata. Maurizio! Vi ricordate? Chi è che diceva? Maurizio! Nove! Nove! Cos'era? Il piccolo diavolo, no? Di Benigni, dove il sacerdote si chiamava Maurizio e Benigni faceva il piccolo diavolo. E quando incontrava il sacerdote, c'era Maurizio! Maurizio! Ecco, Maurizio Landini, che non c'entra niente però. Ogni volta che sento Maurizio, mi viene in mente questo. Avevo anche un amico, tanto tempo fa, che poi non so più dove è finito, Maurizio, e proprio lo chiamavo così, Maurizio! Come nel film, e vabbè. Maurizio Cantù. Non so dove è finito. Maurizio Cantù di Bustarsizio. Era un mio amico di tanto tempo fa, poi non ho più sue notizie, se ho provato a cercarlo sui social non lo trovo, chissà, magari mi ha bloccato. Magari mi ha bloccato ai tempi, chi lo sa. Comunque, Maurizio Landini, mentre cammina, occhiali da sole, giacca, spilletta del sindacato, arriva la giornalista di Quarta Repubblica, no? Quarta Repubblica, quelle trasmissioni dei cattivi di destra, no? E la giornalista dice proprio a Landini, mentre cammina, scusi, ma la CGL, il sindacato che fa della sua bandiera la tutela di tutti i lavoratori, licenzi ai lavoratori? Incredibile solo a pensarlo, paradossale, vero? Vero Landini? Non risponde. Cammina, si gira dall'altra parte, come dire, sapete che quando voi vi girate dall'altra parte, quando qualcuno parla, significa, guarda, che quello che tu stai dicendo proprio non mi interessa, proprio vai via, sparisci, ecco. E è una circostanza, dice Landini, non nell'intervista, perché l'intervista non c'è stata, perché la scena muta è come se avesse parlato, cioè se tu chiedi a questo Landini com'è che avete licenziato una persona dopo 40 anni utilizzando proprio il job act che lei, Landini, vuole fare un referendum per cancellarlo, paradossale, vero? Che il sindacato licenzi utilizzando il job act che volete cancellare e lui non risponde. La giornalista rifà la domanda e lui non risponde. quel fatto di non rispondere è già una risposta. Quel silenzio è già una risposta. Si vede l'imbarazzo delle contraddizioni. Io combatto il job act, fa schifo, poi ti serve e lo utilizzi, no? E' un po' come quello che dice non utilizzate la macchina che inquina, non utilizzatela. Dice poi, beh, senti, prendi la macchina che andiamo a fare la spesa. Ecco, finché è per gli altri, dillo, la macchina fa schifo, poi se ti serve la usi. Quindi, il job act, cancelliamolo, dobbiamo licenziare quello? Utilizza la legge che c'è, ci mancherebbe altro. Ecco, tipico, 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 tipico italiano questo. Le cose si applicano agli altri, ma quando toccano a noi è come quello che ha criticato ferocemente il reddito di cittadinanza, basta, poltronari sul divano, adesso basta, poi perde il lavoro e dice adesso, com'è che si chiede il reddito di cittadinanza, scusate, non è che qualcuno mi spiega com'è che faccio, perché devo andare subito a chiedere il reddito di cittadinanza. Ma scusa, ma stavi dicendo, basta, poltronari. Insomma, ho perso il lavoro, cosa faccio? Devo anche mangiare, ma adesso vado a chiedere il reddito di cittadinanza. Ecco, quindi sono quelle cose che per gli altri devono essere in un certo modo, ma quando si parla di te la regola già non c'è più, non esiste. Uguale, no? Maurizio Landini, che critica fortemente e vuole cancellare il Giobact, e poi il sindacato licenzia una persona che è lì da 40 anni proprio con quelle leggi che vuole cancellare. E lui, poi intervistato, non risponde. E il silenzio è una grande risposta. Il segretario generale della CIL è così intercettato dalle telecamere di Quarta Repubblica il programma condotto da Nicola Porro su Rete4 La giornalista, dopo aver intercettato Landini, gli domanda se fosse a conoscenza del licenziamento di Gibelli, avvenuto proprio grazie alla misura introdotta da Matteo Renzi, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Silenzio, testa girata dall'altra parte e fuga dal microfono. Beh, imbarazzato? Insomma, direi proprio di sì. Ecco, del resto cosa avrebbe potuto e come avrebbe potuto rispondere? Ecco, lo stesso Gibelli dice chiaramente la famosa, la famosissima doppia morale che hanno tante persone, tante associazioni, istituzioni, eccetera, eccetera. La doppia morale di Landini e compagni che mette in cattiva luce tutta l'organizzazione sindacale da lui guidata. Guida? Lui guida il sindacato? Contro il muro, però. Insomma, la domanda che mi sorge spontanea. Landini è quello che ha organizzato lo sciopero per ottobre contro una legge che non è stata ancora scritta. Ricordandovi questo, voi capite già chi è Landini, cioè uno che organizza uno sciopero generale contro qualcosa che ancora non c'è, dicendo, eh sì, ma tanto sicuramente faranno delle cose sbagliate, quindi portiamoci avanti, organizziamo già lo sciopero. vi fa capire il ragionamento fortemente ideologico e a pregiudizi impressionante. Ecco, quando vedete un Landini di questo calibro e la sua compagna politica Lashlein che dice cose senza senso, la domanda che sorge spontanea è ma come fanno le selezioni per capo sindacale o capo politico a sinistra? Cioè, quali sono i criteri che scelgono? Perché è veramente agghiacciante, agghiacciante. se metti insieme Landini e Schlein non fanno un decimo di Gianluigi Paragone, ecco, che è tutto dire. Insomma, se poi gli aggiungi Bonelli, quello dei sassi del fiume che la Melonia ha prosciugato i fiumi, ci metti Fratoianni quello che andava a dormire sulle navi ONG, ci metti Giuseppe Conte, Erbanderuola, la compagnia di sinistra è qualcosa di veramente potrebbero fare un tour, un giro per l'Italia, il tour di sinistra per fare degli spettacoli, per far divertire l'accent. Grazie a tutti e arrivederci a presto.